5. Enjoy your freedom. Hamburgeria, lounge bar in Piazza della Libertà ad Ostuni. Todo Modo, Multi Solution Travel e Hotel a Terra ad Ostuni. Istituto di Vigilanza, Securità Spuglia, Anza Service, Sport, Antinfortunistica, Grafica e Pubblicità. Liberati dall'affitto, scegli 30-40 imprese, costruiamo la tua solida realtà. XXL, Music Pub, Ipersimpli, l'ipermercato più vicino a te. Impresa Schiavone Maurizio, Movimento Terra, scavi, demolizioni, trasporto merci, mozzarella eco e caseificio Bianca Ostuni. Sinceramente io sono allibito del comportamento della maggioranza di centrodestra. A parte che non ho sentito una motivazione, conosco gli antefatti e i retroscena sui quali non mi soffermo. C'è un aspetto solo che è importante, è l'ennesima dimostrazione della mancanza del senso delle istituzioni e del rispetto delle stesse. Ostuni ha due consiglieri provinciali, di cui uno addirittura presidente. Dopo 25 anni Ostuni ha, seppure momentaneamente, un presidente della provincia. La provincia ha problemi di dotazione organica, quindi di personale. Prima abbiamo utilizzato un direttore di ragioneria della provincia di Lecce. Quindi avevamo chiesto al comune di Ostuni, previa disponibilità del dottor Francesco Convertini, e dopo aver chiesto la cortesia al vice sindaco e all'assessore al personale, di poter utilizzare per un pomeriggio e mezza giornata il direttore di ragioneria. L'assessore al personale aveva detto di sì anche al dottore Convertino. Dopodiché io non so che cosa sia successo, mi è stato riferito problemi politici, forse di campagna elettorale. Siamo veramente, come si dice, al degrado della politica e dell'amministrazione. Io sono sconfortato, mi dispiace di avere a che fare con rappresentanti delle istituzioni del genere. Probabilmente sono abituati ad altri principi e ad altri valori. Mi dispiace per il dottore Convertino che aveva assicurato questa disponibilità e per cui avevamo formalizzato la richiesta qualcuno ha voluto dare responsabilità che in questa circostanza sinceramente il segretario generale non ha perché si era limitato a mettere a punto la ipotesi di convenzione sulla scorta di quella che avevamo già fatto e che il Consiglio provinciale ha approvato ieri. Evidentemente c'è qualcuno che antepone come sempre gli interessi della botteguccia o della bandierina rispetto a quelli delle istituzioni che sono prioritarie e che dovrebbero avere una sorta di prelazione ma prendo atto che la correttezza e il rispetto istituzionale che io ho avuto immediatamente quando questo comune ha chiesto alla provincia la disponibilità dell'istituto tecnico commerciale Monnet per risolvere i problemi dei ragazzi della scuola elementare Pessina che non avevano un posto dove andare a seguito dell'ennesima inagibilità che riguarda ormai da qualche anno questo comune ho immediatamente fatto il decreto per risolvere il problema vedo che in realtà siamo su due pianeti diversi e che non c'è proprio come dicevo poc'anzi il senso della istituzione ma solamente il rispetto della botteguccia alla quale fare riferimento e per la quale mettere in atto anche queste azionacce che non meritano nemmeno un diritto di cittadinanza nella politica con la P maiuscola Quindi il Consiglio provinciale aveva deliberato e approvato questa convenzione? Certo, avevamo già deliberato ieri la convenzione sia per il direttore di regioneria che per un dirigente tecnico da fare con il comune di Brindisi però come si dice il comune di Ostuni retto da questa maggioranza da rappresentanti che dimenticano quello che hanno detto qualche giorno fa o qualche ora prima evidentemente non è degna di collaborare a certi livelli con le istituzioni che rappresentano tra l'altro tutta la provincia